Oh, Fian, Fian, questa è dedicata. Voglio giurarlo qua, su. Stai scivolando. Fian, questa casca, c'era un bel culo il direttore. Fian. Fian, so presa. G, G. Allora, questa è importante. G, questo non basta. C'è equilibrio. Ci sei? Dai, 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 piano, piano. Ragazzi, quando ci vuoi? Sì, sì, tavola. Guarda qui, stai tranquillo. Con colloqui di lavoro facciamoci. Guarda qui, stai tranquillo. Dai, tu muovetevi, dai. un'altra stanza solare ho fatto so che passi sotto è perché la raga cazzo riserva così no